Il Golden Domus in questo caso va a un sales manager che insomma vende una casa ogni 1,6, ha fatto un fatturato di 600 mila euro praticamente, ha già vinto il Golden Domus nel 2019 sempre per fatturato, sto parlando di Davide Alessandro Torri che purtroppo questa sera è influenzato, però complimenti, è un applauso fortissimo per lui, viene a ritirare il premio, se non sbaglio Gary Blamasi, complimenti Davide. Non è tuo, però intanto ti alleni, ti alleni. C'è Davide in linea? Davide ci senti? Sì, ciao Andrea, buonasera, sono dispiaciuto di non essere lì con voi a festeggiare, felice della vittoria. Complimenti Davide. So che a te piace competere, cosa significa per te la competizione? Perché tutti noi competiamo ogni giorno, però sicuramente te che sei una persona, come dicevi nel video, che trae il massimo della competizione, te cosa tiri fuori? Ma competere, a me innanzitutto piace la competizione perché è un modo veramente per potersi confrontare e parametrare la propria performance, quindi di conseguenza migliorarsi, migliorarsi. Penso che per competere bene però ci vuole una dose, un pizzico di egoismo ma anche molta umiltà perché poi quando magari le cose non vanno come dovrebbero andare così trovi la forza per rialzarti a testa alta. Non si può vincere sempre, però bisogna sempre essere in competizione secondo me. Ma se si compete poi sicuramente si può vincere spesso. Bene, complimenti Davide e buona ripresa. Grazie, grazie mille per il proteggamento. Un abbraccio a tutti e tanti auguri e buonasera da tutti.